In corso il sindaco, il singolo Sono più emozionato io che Antonio, sta mantenendo una calma incredibile L'ha recuperato al primo set da 7 a 3 e ha vinto 5-3 per Antonio No 5-4 Grande 7-4 7-4 9-5 Due punti per la vittoria Calmo Calmo 10-6 Hai 5 match ball Sì Grande, ha vinto 2-0 Grazie a tutti Grazie a tutti